Stà fra la mafia e il Vaticano, l'Italia in cui viviamo, zero colpo di Stato, zero colpi di mano, brucia il Santino con Graviano, rinna e bontà dei Casalesi dentro il libro di Saviano e vai con l'odo al Fano. Magistratura imbavagliata dalla dittatura, mette l'ipoteca sul futuro col tasso d'usura, ma tu non darti all'allarmismo, affoga nella merda del tuo consumismo e non perde l'ottimismo, come un cresceto nella ruota, corri sì o corri, spendi tutto ciò che hai guadagnato e resta ingabbiato, tra alta finanza e proletariato, delle gestapo da paura che censura omicidi di Stato, ho fatto a Ducchi, chi l'ha pestato, dillo a tutti cosa ha scritto in quella lettera Stefano Cucchi, spaccare o della non si è fatto un giorno in cella fino alla sentenza, per presunzione d'innocenza, la mia italietta mi sta stretta.